we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi wow wow quante novità stanno per arrivare nel nostro fortnite in questi ultimi 8 giorni della season numero 8 ragazzi da poche ore si sta iniziando a sentire un rumore molto molto interessante che lascia presagire l'arrivo finalmente della runa numero 5 l'ultima quella che servirà per attivare ovviamente il dispositivo a sponde del saccheggio nel video di oggi ragazzi parleremo appunto delle ru news vi voglio tenere aggiornati su quello che sta per accadere e su quello che si è già modificato in game ma parleremo anche finalmente dell'inferno pack abbiamo un uno spoiler sembrerebbe ragazzi che si sa la data di uscita e se ho tempo oltre a dei leaks che voglio farvi vedere anche le sfide della settimana numero 10 quella che arriverà dopo domani quindi siamo davvero arrivati alla fine voglio però prima ringraziare tutti i ragazzi che utilizzano il mio codice creator xyuderone nello shop grazie mille per il mega sostegno che date al canale mi raccomando non dimenticate di iscrivervi e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima a eia la domandina ragazzi ve la devo fare la domandina ve la devo fare sapete che ci tengo tantissimo ai vostri commenti lasciateli qua sotto mi raccomando ed è una domanda che richiede una certa concentrazione ma quale versione di beast mode preferisci dai ragazzi sappiamo ieri è uscito il rhino oramai lo chiamiamo tutti rhino quattro versioni selezionabili la mia preferita ragazzi è lo sciacallo quello colorato di giallo in poche parole è davvero OP bellissimo sia il suo piccone che è praticamente la motosega che si muove sia la skin in sé che mi sembra davvero la più divertente ditemi qual è la vostra preferita qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vedere quest'immagine molto molto bella che ci fa capire che siamo arrivati praticamente alla fine runa numero 5 ancora mancante runa molto interessante quella che raffigura una specie di ma ragazzi sembra davvero il vulcano come vedete è quella arancione per chi non l'avesse ancora capito sembra davvero che quelle due linee formino il cono del vulcano al centro è la lava che sta per eruttare e la cosa più interessante è quella gemma chiamiamola così all'apice quindi probabilmente qualcosa che verrà letteralmente eruttato al di fuori potrebbe anche tranquillamente essere una delle pietre infuocate come sapete tra pochissimo ci sarà l'evento del vulcano non appena la runa numero 5 attiverà il portale a sponde del saccheggio e abbiamo già visto qualche giorno fa che ci saranno gravi danni alle costruzioni di pinnacoli pendenti e anche di corso commercio ma non escludo ovviamente che possa succedere qualcosa una serie di rocce infuocate cadranno sulla mappa e distruggeranno parecchie cose presenti in game ma volevo anche ragazzi aggiornarvi vi ricordate l'immagine del video di ieri mattina questo è uno degli schermi presenti a sponde del saccheggio gli schermi che non possono essere distrutti vi avevo fatto vedere che uno dei sei schermi ha iniziato a raffigurare il bouncer beh ragazzi da poche ore un altro schermo sta raffigurando la drum gun quindi la thompson si noi la giocavamo chiamandola thompson ricordo che nell'evento di sponde del saccheggio ci saranno sei oggetti uno dei quali potrà essere scelto da noi per farlo rientrare in game quindi ovviamente è questione davvero di giorni alla peggio di ore prima di vedere finalmente il primo e unico evento super figo della season numero 8 ma andiamo avanti e badabam guardate ragazzi che storia ve lo avevo credo anticipato nel titolo abbiamo trovato una nuova immagine super esclusiva e anche super anonima non si sa davvero da dove provenga ma è stato fatto secondo me arriva direttamente dai da dai come si chiama dal team di epic games perché questa è un'immagine raffigurante la skin star lord e si vede benissimo che è una fotografia fatta ad uno schermo lo riconosciamo da quegli aloni azzurrina in alto è l'effetto che praticamente la foto fa quando si sta fotografando uno schermo quindi immagine davvero incredibile con tanto di school trooper viola alle sue spalle che ci raffigurano in maniera molto più dettagliata la prossima skin inerente gli avengers che dovrebbe uscire davvero tra pochissimi giorni non sappiamo ancora però quando ma andiamo avanti ragazzi ed eccola una delle novità invece in arrivo negli ultimissimi update della season numero 8 la shadow bomb ve ne avevo già parlato ma oggi voglio solo aggiornarvi sulla descrizione finalmente è stata recuperata anche la descrizione è in inglese e dice into the shadow stilt and utility make for surprise allora vuol dire into the shadow vuol dire nell'ombra letteralmente stilt è nasconditi e utilizzala per un effetto sorpresa quindi è molto probabile ragazzi io sono quasi convinto che questa bomba sia da utilizzare tipo una granata fumogina quindi dovrebbe creare o una zona di buio perché shadow bomb shadow è l'oscurità o comunque un qualcosa che offuscherà la vista dei nemici e ci permetterà di sferrare degli attacchi dei push senza essere notati e quindi creando un grande effetto sorpresa per chi ha giocato con le granate a gas ricorderà senz'altro la potenza a me piacevano o raga a me piacevano tantissimo le granate a gas perché ne potevi portare tipo 6 o 9 iniziavi a lanciare granate a gas creavi una coltre di fumo e pushavi violentemente dentro senza essere visto mi piacevano tantissimo e sono veramente dispiaciuto che non siano proprio più presenti in game quindi ragazzi shadow bomb altra grande novità ma questa immagine vi dice sicuramente qualche cosa il pack inferno immagine ufficiale coreana ragazzi quella scritta lì mi hanno detto che è coreana e un tweet di un grande leakers mondiale sostiene che entro le prossime 24 ore dovrebbe essere disponibile il pack inferno abbiamo comunque un'altra immagine super interessante che è quella relative al sfide come sapete ci sono mille vbucks in premio per chi acquista il bundle che vengono ridati piano piano facendo le sfide giornaliere quelle che fortnite ci propone ovviamente ogni giorno ma abbiamo anche altre due sfide come vedete contrassegnate dal numero uno che sono inerenti al piccone e anche alla skin per le armi skin esclusiva solo per questo pack vi ricordo che sarà disponibile nel negozio di fortnite nella stessa sezione dove possiamo acquistare i vbucks e costerà 19 e 99 molto probabilmente io vi consiglio vivamente di prenderlo perché comunque ci ridà mille vbucks chiudo molto velocemente ragazzi senza perdermi con le sfide della settimana numero 10 che non sono assolutamente difficili dovremmo lanciarci in dei cerchi nell'aria con i cannoni poi vi farò vedere i video dobbiamo prendere legna in un match non so bene quanta pietra per la seconda parte e metallo per la terza parte uccidere nemici a pinnacoli pendenti o al nuovo quartiere fare danni con il nuovo fucile da fanteria o il fucile d'assalto pesante cercare i tesori nella mappa che si troverà a crocevia del charpame poi ve la farò vedere ragazzi fare danni con con 10 off landing after using vulcano vent fare danni dopo che avremo utilizzato un geyser del vulcano anche qua avrò sicuramente modo di approfondire nei prossimi giorni e eliminare un nemico da una distanza più vicino di 5 metri beh ragazzi anche per oggi il video delle news è terminato io vi ringrazio tantissimo per averlo guardato mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale codice creator xioderone noi ci vediamo in live ciao ciao